Luca Sant'Ambrogio si conferma presidente della provincia di Monza e Brianza. Vittoria all'ultimo respiro per il presidente uscente e sindaco di Meda, sostenuto dal centrodestra. Sant'Ambrogio chiude con una maggioranza del 50,19% dei voti ponderali di sindaci e consiglieri brianzoli contro il candidato del centrosinistra, il sindaco di Cesano Maderno Giampiero Bocca. È stato veramente quello che si definisce un testa a testa proprio all'ultimo voto. 340 voti ponderali sono veramente pochi. Il mio ringraziamento va a tutti i partiti e alla parte civica che ci ha sostenuto in questa corsa perché alla fine è stata veramente una corsa con un traguardo che si è raggiunto veramente per pochi millesimi di secondo. Il ringraziamento va a tutti i partiti di centrodestra e centrosinistra perché riuscire a portare ad un'elezione il 92,4% degli aventi diritti al voto che per il ponderale valgono il 95,4% è qualcosa che penso in Italia sia stato unico. Per Sant'Ambrogio comincia così il secondo mandato con scadenza nel 2027 quando terminerà la carica di sindaco di Meda che comporterà anche la contestuale decadenza da presidente della provincia. Il gran piacere sarà riuscire a inaugurare alcune delle cose che avevo iniziato nel mio primo mandato quindi penso ai centri per l'impiego, penso all'osservatorio per il lavoro, penso a qualche altra scuola qualche altra scuola come Agrate che a fine lavori vedremo finalmente lo spostamento del Floriani quindi con uno svuotamento e un alleggerimento dell'omnicomprensivo e poi tanto altro, c'è una variante del PTCP tutta da scrivere c'è da seguire e mettere a terra nei tempi prescritti i fondi del PNRR, parliamo di circa 30 milioni di euro. In consiglio provinciale il centrodestra conferma nove rappresentanti Saranno ancora presenti Claudio Rebosio, Antonella Casati e Marina Romanò Novità Giuseppe Azzarello, Massimiliano Longo, Michele Santoro, Alessandro Rossini e Elisabetta Viganò Tante conferme invece nei sette consiglieri rappresentanti Brianza Rete Comune Vincenzo Di Paolo, Alberto Rossi, Concettina Monguzzi, Simone Sironi, Francesco Facciuto e Giorgio Garofalo Novità Paola Bernasconi, da poco entrata anche in consiglio comunale a Monza al posto della dimissionaria dall'Aquila